Il PM della procura di Larino, Marianna Meo, aveva chiesto tre anni e due mesi di reclusione. Il giudice Rossaria Vecchi ha innalzato la pena. Giovanni Trivisonno è stato condannato a quattro anni e otto mesi per omicidio stradale in primo grado, con rito abbreviato. Era lui, allora ventenne, il giorno di ferragosto del 2021, alla guida della Mini Cooper che uscì fuori strada e si ribaltò nei campi, nel tratto tra Petacciato e Termoli. Su quell'auto viaggiava anche la sedicenne Valeria Cinali. La ragazza morì qualche ora dopo in ospedale. Le ferite erano troppo gravi. I suoi familiari, assistiti dagli avvocati Monia Cinali, Ruggero Romanazzi e Andrea Chierchia, da subito hanno chiesto giustizia. Diversi passaggi che hanno caratterizzato la fase delle indagini in questi 17 mesi di sofferenza per la famiglia della ragazza. Sopralluoghi, perizie, rilievi, richieste di arresto, un video girato sull'auto, testimonianze che avrebbero confermato l'alta velocità della Mini Cooper. Finalmente la giustizia sembra fare il suo corso. Valeria lo merita. Che questa sentenza sia di monito a tutti i giovani è il commento dell'avvocato Monia Cinali. Aspettiamo le motivazioni della sentenza anche per comprendere, ha detto l'avvocato Reste Campopiano, che insieme a Donato Garzarella difende il giovane, le ragioni per le quali il giudice non ha ritenuto, come aveva fatto e richiesto il pubblico ministero, di concedere le attenuanti generiche connesse sia al risarcimento del danno, sia al comportamento collaborativo dell'imputato nei confronti della Procura, oltre che della sua incensuratezza. Siamo orientati ovviamente, ha concluso Campopiano, a impugnare una sentenza che ci sembra eccessiva nella valutazione della pena.